Buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, oggi è il 31 di maggio 2016, dunque si chiude questo mese caratterizzato, parliamo dal punto di vista del tempo chiaramente, chiaramente caratterizzato da giornate alternate sole, freddo, pioggia e i prossimi giorni come vedremo non sono un granché, quindi anche il mese di giugno si apre un po' così così, ma prima di parlare del tempo andiamo a dare uno sguardo al calendario perché oggi per i cattolici c'è questa importante giornata narrata anche dall'Evangelista Luca, cioè l'episodio in cui la Vergine Maria visita la cugina Elisabetta e oggi si chiude anche il mese di Maria, il mese del Rosario, il sole è sorto alle 5.28 e tramonterà alle 20.43, il tempo dicevo oggi sarà un po' colovoloso con addensamenti più consistenti invece durante le ore più calde della giornata avremo possibilità di locali e brevi piovaschi nelle ore centrali e soprattutto nel pomeriggio lungo il settore collinare e costiero, quindi non si esclude pomeriggio serata un po' di pioggia, temperature senza variazioni di rilievo, vediamo la giornata di domani, primo giugno, vedete la pioggia che sta cominciando ad arrivare nell'entroterra ma anche sul Conero, cielo parzialmente nuvoloso con aumento della copertura durante la mattinata, i rovesci saranno sparsi anche a carattere temporalesco a partire dalla tarda mattinata di domani e in particolare è improbabile attenuazione durante la serata, però giovedì 2 giugno, giornata di festa, avremo ancora precipitazioni sparse, prevalente carattere di rovescio o di temporale con temperature in lieve aumento, la restante parte della settimana sarà caratterizzata da condizioni di instabilità soprattutto nel corso del pomeriggio. Andiamo adesso a leggere i giornali, cominciamo dal messaggero, la pagina di Pesaro, subito la questura scelta la nuova sede, l'annuncio del sindaco di Pesaro Matteo Ricci in consiglio, via libera per l'ex intendenza di finanza in via Zongo, il prossimo 17 giugno ci sarà la firma in prefettura tra il comune, il demanio e il ministero dell'interno. Centro pagina invece fuma un pesarese su tre, i dati che riguardano la provincia di Pesorbino dove appunto sempre più donne, giovanissimi e persone in difficoltà economiche comunque fumano e quindi questo è il dato che emerge e con tutti i dettagli nelle pagine interne. Le assunzioni, le assunzioni invece all'azienda ospedaliera Marche Nord, le 131 assunzioni di cui abbiamo parlato anche ieri sera nel corso del nostro telegiornale. I sindacati sono contenti ma a metà, CGL e CISL soddisfatti per l'annuncio del presidente della regione Marche Ceriscioli però dicono restano molte criticità. Sotto l'atleta Ottaviani, centenario ormai da qualche giorno, festeggia nuovi record, ieri allo stadio Montefeltro il primato di salto triplo e di lancio del martello della sua categoria. E poi sopra invece sotto la testata vedete lo sport, la VL saluta coach Paolini, sta per cominciare l'era Bucchi mentre la promozione, la bella favola del rugby in Serie A, niente soldi solo passione, c'è chi fa l'operaio, il gommista, il cuoco ma sono riusciti a spuntarla anche contro squadre che spendono davvero tanti soldi e c'è un segreto per questo successo soprattutto sta, come dicevo, nella passione. La pagina di Fano del messaggero è sugli espropri, la complanare, gli espropriati in guerra per gli indennizi, i soldi che dovranno ricevere praticamente dalla società autostrade. Anche chi subirà dei danni di altro genere adesso è pronto ad unirsi a questa battaglia. Qui vedete nella fotografia Don Marco che dice adesso la nostra ultima speranza è affidarci al lavoro di avvocati e di periti. Un fanese emigrato in Francia protesta, la strada ci taglia, gli taglia il vialetto di casa, bastava spostarsi dieci metri più in là. Mentre l'assessore ai lavori pubblici Christian Fanesi per gli uffici comunali è impossibile modificare in corsa il progetto, solo qualche barriera antirumore. Niente festa del parco, niente festa del parco il 2 di giugno. Il comitato che l'ha sempre organizzata per anni non molla, dice, nonostante le rassicurazioni fornite dall'amministrazione comunale, dal sindaco Massimo Seri insieme all'assessore Carla Cicchatelli, il comitato Bartolagi mantiene la sua linea iniziale e conferma l'intenzione di non organizzare quest'anno la festa del parco che, come dicevo, tradizionalmente si celebra nella giornata del 2 giugno. Il perché lo ribadisce Anna Tonelli che dice che per noi nulla è cambiato rispetto alle motivazioni che ci hanno portato a prendere questa decisione, il fatto che sul parco non si fa mai sul serio, nonostante sia cambiata l'amministrazione. Sull'aeroporto, Drudi insiste, il Presidente della Camera di Commercio, ora la pista in asfalto. Dopo il cambio al vertice della società partecipata a Fanon Fortune, i nuovi amministratori proveranno a rilanciare l'aeroporto di Fano con un ambizioso programma di crescita. Il primo obiettivo, dichiarato, è quello di recuperare l'occasione di costruire una pista in asfalto per la quale, tra l'altro, l'ente nazionale di avvenzione civile, cioè l'ENAC, aveva già stanziato i fondi necessari, 2 milioni e 300 mila euro, un'opera che la Camera di Commercio vuole e insiste di voler fortemente. Qui vedete il Presidente della Camera di Commercio di Piesa Urbino, Alberto Drudi. Adesso apriamo subito la pagina di Fano del Corriere Adriatico. Anche qui vedete l'aeroporto in primo piano, l'impasse. Parlerò con Nencini. Il Presidente Drudi continua a puntare sulla pista in cemento e sul ruolo pubblico nella gestione dei servizi, ma i 5 Stelle portano la questione in Consiglio Comunale. Fuori il Comune dalla società Fano un Fortune. La Darsena Borghese e l'Istituto Battisti invece vanno verso la rinascita. Perché? Perché le due costruzioni sono oggetto di importanti interventi di recupero, adeguamento sismico per la scuola e recupero di terrazze e balaustra invece sul canale che si affaccia sulla liscia appunto. L'altra pagina del Corriere è sempre quella di Fano. Solo scuse, niente festa al parco. L'invito del Sindaco non rassicura il comitato, non c'è rispetto per l'area verde. Da Senigallia invece ubriachi e vandali, tolleranza zero. Il Comune corre ripari, dal primo luglio più illuminazione pubblica, via il format della notte bianca. La pagina di Pesaro invece è sulla nuova questura. Ricci annuncia la soluzione, accordo sugli edifici delle vie Zongo, Guidi e Bruno. Il Sindaco dice quattro piccioni con una fava. E adesso la pagina di Pesaro del resto del Calino. Questa è la copertina. Nuova questura, rebus risolto, il Sindaco trova la quadra, uffici trasferiti in via Zongo. In piazza si spostano quelli di via Giusti e il Ministero dell'Economia compra la sede di via Bruno. La pagina interna, il Comune dà la colpa ad un cordolo e abbatte tre alberi in viale Marconi, ma scatenando così la protesta dei residenti che hanno telefonato per fermare i lavori, però purtroppo in vano. L'assessore Enzo Belloni si giustifica e dice che le radici raschiate indebolivano i pioppi e potevano addirittura cadere. Questa è la fotografia sul resto del Calino di oggi, la pagina di Pesaro, mentre le strategie per l'acqua portano l'Assemblea ad approvare il piano Ato, via libera alle captazioni dei pozzi, voto quasi unanime dei sindaci della provincia. L'entità dei prelievi da Sant'Anna e San Lazzaro saranno prelevati 300 litri al secondo. Ora parte un lungo periodo di studi e prove di portata. Ancora dal resto del Calino, i fratelli che per l'eredità si sono messi a litigare fuori nel parco, un parapiglia che è finito addirittura con un arresto, è successo a Borgo Santa Maria, siamo a Pesaro, contusioni per un carabiniere alla vista dei militari, l'aggressore si è avventato con violenza su di loro. La pagina di Fano invece, lavori in corso al Battisti, i manturandi, scusate, vanno in trasferta, dovranno affrontare l'esame nella sede di Via dei Leci, bonifica dell'amianto al Torelli invece e risanamento di parte della sede dell'Olivetti. Poi anche qui vedete la darsena borghese, due mesi e mezzo dopo gli annunci parte il cantiere per i lavori di riqualificazione. L'ultima pagina invece la andiamo a leggere da Pesaro a primo piano. Il resto del Calino questa mattina ha fatto un giro di consultazioni tra le parrocchie, dopo l'invito del Papa, quello di aprire, tenere aperte le parrocchie e da Pesaro qualcuno risponde, per noi è difficile riuscirci. Il Papa chiede ai parroci di tenere il più possibile aperte le porte e di non essere mai severi con chi si rivolge alla Chiesa. Ecco cosa rispondono loro, cosa rispondono i parroci. C'è sotto, vedete, abbiamo alcuni di questi parroci interpellati, Don Michele Rossini, Padre Damiano, Don Giampiero Cernuschi e Don Marco Farina. È tutto, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie.